Il pianeta è nelle nostre mani, l'ambiente, l'economia, la società e ciò che chiamiamo sostenibilità. All'Università Ca' Foscari di Venezia abbiamo deciso di impegnarci ogni giorno, puntando sul benessere degli studenti e del personale, sui servizi online, il telelavoro, su un approccio sostenibile alla gestione di consumi, rifiuti e materiali, e molto altro, in sinergia con altre università, istituzioni, stakeholder e partners a livello nazionale e internazionale. Perché la sostenibilità diventi realtà e non rimanga solo sulla carta. Università Ca' Foscari Venezia. La sostenibilità è nelle nostre mani. Università Ca' Foscari Venezia.